ciao a tutti amici benvenuti su questo nuovo video ragazzi con questo con quest'app che sto registrando a un certo punto mi ha danneggiato tutti i file quindi quindi una battaglia contro di savora le due battaglie con di savora ne ho perse ne ho perse però ho preso pienamente general esiste e come se ne esiste e i vostri esiste bene devo ammetterlo però ora che noi abbiamo i savoia proprio ne abbiamo sotto il nostro contromo la situazione per noi è molto favorevole però qua scopriranno sicuramente dei modi una festa però ora dobbiamo cercare di prenderci questo siamo pronti ecco questi altri sono davanti assedio in corso aspettiamo qualche altro turno sono porci non le temi aspettiamo uno o due turni e attacchiamo genova ragazzi mi dispiace un sacco che questi fani siano danneggiati non si dovevano danneggiare perché sono state due battaglie epiche 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 chi è che c'è un buon esempio sono porci null'età maio assedio in corso signori sentiamo genova proprio le nostre vita sono proprio inferiori quindi ci vediamo sul campo di battaglia grazie a tutti 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 c'è più niente no c'è questo ah ecco ecco il commercio no perché stava proprio montanissimo la francia che vuole un accordo commerciale bene si maia ma non è possibile i vostri ordini maestà una ribellione assacrateli la vittoria è nostra terminateli e che cavolo ho capito che si rincazzati però vogliono vede il coglione a me francia perché perché che mi fai questo cosa che abbiamo fatto forse perché voi come già con quanto so con capire anche aspettati spalle conti a spagna bisogna migliorare le truppe ancora non si può c'è non del tutto non mi manano da niente c'è assolutamente questa città e queste botteghe dei fabbri wow poco pensavo che aveva di più sono rimasto deluso adesso vabbè mettiamo queste navi qua c'è ma mi rendete conto che che esercito che ha prendete che questo qua lo può batto questo lo può batto poi lo mettiamo solo su una nave e in alto su un'altra nave bene signori si fa questa battaglia finalmente attacchiamo ah ma ti stanno vedendo non aspetta aspetta no qua qua mo noi ci divertiamo mi a ins Grazie a tutti Attacchiamoli Facciamoli a pezzi va Sì ma dovete correre Sapete che significa correre Via su 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 Giù 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 No Perché camminate quando dovete correre Sapete che significa Stiamo conquistando Avanti Grazie a tutti 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 Grazie a tutti